Allora ragazzi, buonasera da Savio Cavalli, questa sera purtroppo per motivi di tempo doveva venire tanta bella gente di Caserta a questa festa al rione Sant'Agostino e non è venuta perché piove un pochettino però voglio dirvi una cosa, il pubblico casertano di Santa Maria Capoavetere nonostante la pioggia è qua con noi la banana chissà ricorda sta gazzone, faceva così te si mangiate sta banana, banana oh yeah, oh yeah guardo tutti i succo alle mani a tempo di musica, tutti ci sono tifosi del Napoli scremori diciamo qua che la scelta, il garagione è tutto beneditato guardi un po' di questa parlare che problema già nel suo gazzario cosa non si può che faceva più mi ricordo tanto tempo fa quando sabato io va a ballare tutti quanti in coro cantavano ma così ma tutto insieme che si mangiata così mangiata sta banana banana oh yeah ti piace sta banana così mangiata sta oh yeah, oh yeah chi non alza le mani non si sperano mai non si sperano mai non si sperano mai